chiamata game e la variabile this allora la variabile game interagisce direttamente col gioco quindi ad esempio se in un'istruzione noi dobbiamo fare che ne so cioè stampare qualcosa su schermo sarà game.messaggio cioè msg game.msg cioè il gioco, la variabile gioco stamperà msg è molto semplice penso allora la variabile gioco, il nome della variabile su cui si interagisce punto per dividere il nome dall'istruzione o anche dall'istruzione, chiamateli come volete e fra parentesi si mette che cosa si vuole dire che ne so questa è una prova tanto per dirne una invece la variabile this si usa sui oggetti ad esempio ci sarà una variabile del tipo anzi un'istruzione anzi un'istruzione atto punto go go to go to object anzi un'istruzione anzi un'istruzione penso che sia così this punto in virgola allora vi spiego questo è un altro codice che useremo più in là ovviamente è già preesistente nel gioco quindi volendo basterà anche semplicemente copiarlo e incollarlo infatti se volete benissimo potete andare avanti con copia e incolla poiché molte istruzioni sono date direttamente dal gioco ma è più semplice forse impararlo perchè potete fare altre cose che forse non ci sono presenti nel gioco allora adesso andremo però questo tutorial si sta dilungando un po' troppo quindi andremo direttamente ad aprire un file nuovo cioè da wintermute engine ed andremo a fare lo scripting cioè ovvero scrivere il codice io apro prova scripting voi ne create uno nuovo non ci vuole niente ovviamente lo sapete come si fa se avete visto gli altri tutorial ovviamente allora eh creiamo un room cioè andiamo su su scena cioè su room ed andiamo su src scr scusa che sta per scripting andiamo su scena underscore init punto script e lo modifichiamo ci apparirà il nostro compilatore questo è molto importante perchè ehm cioè ci aiuta in mo cioè ci aiuta molto allora cancello perchè io no qua vi farò vedere adesso anche voi dovete andare su appunto questo file qua e modificarlo fate attenzione a shane room scr e shane int punto script qua andremo a mettere dei codici il primo codice sarà appunto pertanto per verificare per vedere saranno un commento un commento come si scrivevano i commenti i commenti si scrivono col doppio doppio slash e possiamo scrivere un commento tipo prova scripting prova scripting allora che succede il compilatore viene a questo punto legge il primo codice va bene un codice viene al secondo dice questo non è un codice però perchè è è fatto da due slash e due slash sono un commento quindi non ne terrà conto e andrà avanti cioè ad eseguire allora noi che facciamo adesso mettiamo una variabile le variabili si mettevano con var appunto la variabile lo chiamiamo x uguale diamo lì un valore uno punto e virgola adesso mettiamo un'altra variabile var y la variabile come si chiama? y la prima si chiama x la seconda si chiama y quanto è uguale y? y è uguale a che cosa? a un a un codice alfa numerica cioè una una stringa alfa numerica ovvero a una scritta quindi ciao mondo stiamo facendo il solito programma ciao mondo però in maniera un po' diciamo sciocca non molto calzante però giusto farlo perchè tutti così cominciano allora con la variabile ciao mondo si finisce sempre in punta e virgola in tutti e due e adesso che succede? il cioè il programma arriva al primo codice lo legge va benissimo perchè è un codice include arriva approva scripting non lo legge perchè è un commento va sotto e trova variabile x lo legge e ne tiene conto ovviamente perchè è una variabile è un codice questo al secondo lo stesso perchè è una variabile ed adesso mettiamo un altro un altro appunto commento stampa stampa messaggio come si stampa un messaggio? un messaggio abbiamo fatto prima si stampa utilizzando il nome game ovvero di una variabile già predefinita punto msg che sta per messaggio tra parentesi mettiamo che cosa deve stampare allora noi qua possiamo mettere che deve stampare prova prova però per stampare prova deve essere come abbiamo detto prima siccome è una stringa prova una cosa alfanumerica quindi viene stampata in questa maniera fra le due apici invece per stampare una delle variabili variabili scusate usiamo game sempre punto msg tra parentesi mettiamo semplicemente il nome ovvero x e punte virgola per stampare lo stesso la y mettiamo game punto msg fra parentesi mettiamo solo y ovvero il nome della variabile quindi le variabili vanno scritte semplicemente il nome non viene scritto fra 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 appici adesso proviamo andando al gioco e lo facciamo partire una volta salvato ovviamente lo dobbiamo salvare prima fateci caso caso è uscito prova uno e anche ciao mondo adesso poichè lì da troppo veloce io metto qualcosina per stopparlo cioè c'è una funzione che si chiama slip la funzione slip fa sì che i codici cioè la lettura del codice si fermi sul punto slip per un dot di millisecondi slip tra parentesi lo mettiamo in millisecondi il valore quindi facciamo millisecondi 2500 punta e virgola tutte le istruzioni vanno finita in punta e virgola e poi andiamo qua sotto e scriviamo un altro slip e diamogli altri 2500 e punta e virgola per finire allora l'istruzione slip fa semplicemente stoppare per un certo tot di secondi la lettura del codice quindi non vi preoccupate scrivetelo giusto per verificare se effettivamente avvengono le modifiche e altre cose varie allora che succede passano vedi è uscito prova vedete ciao uno ciao mondo che succede succede che tutto va bene però adesso andiamo a modificare qualcosa al posto di scrivere x però scriviamo x fra doppie apici quindi scriviamo x in questa maniera che succederà semplice il programma non riconoscerà la variabile lo riconoscerà come testo da stampare quindi per stampare le variabili dovete usare sempre sempre il nome semplicemente semplicemente il nome senza niente infatti prova x ciao mondo cioè non l'ha riconosciuto la variabile per adesso è tutto ci vediamo la prossima volta così abbiamo finito il primo tutorial sul scripting che è durato abbastanza molto cioè abbastanza nel senso che è durato più del dovuto perché c'erano delle cose che andavano spiegate e alla prossima al prossimo codice al prossimo scripting ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti